Marcello Michal, ci si ritrova per queste tre giorni dedicata ai colori bianco-azzurri, voluta dalla curva? Sì certo, tre giorni dedicata a tutta la città, a tutti i tifosi e quindi vi aspettiamo numerosi, è una festa dedicata alla città. Finalità ai programmi? La finalità appunto è quella di aggregare quanta più gente possibile di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali come nostro stile. I programmi quest'anno sono ancora più ricchi e ancora più vasti, si tratta essenzialmente di iniziative che ci sono durante tutto il giorno per cui tornei di calcetto, spazi per i bambini, pompieropoli, un sacco di iniziative anche per i più piccoli, attività benefiche quindi daremo una mano a una bambina che si chiama Anna, ad altre associazioni, agli animali, associazioni disabili avremo tutti i dibattiti tradotti in lingua per i sordomuti, quindi questo è diciamo solo un'attività generale poi nello specifico circa dalle 18 in poi abbiamo dei dibattiti, abbiamo una videoproiezione al venerdì 28 con un'intervista inedita di GB Fabri a seguire un dibattito che parla appunto della scalata che abbiamo avuto in questi anni con la gestione della famiglia Colombarini, con i giocatori simbolo che hanno contraddistinto questa scalata sabato 29 e poi a seguire la musica con i The Dice, le Lucertole, Gnett, Bodoni e Freak'n Do poi invece sabato 29 abbiamo un bellissimo dibattito di 13 scrittori curvaioli che abbiamo intitolato Sparta Redigas rileggeremo dei brani, 13 brani di narrativa che sono contenuti in un opuscolo che distribuiamo gratuitamente all'ingresso a fronte di un'offerta libera e poi abbiamo un dibattito che invece parla della repressione del decreto sicurezza bis, insomma di tutti gli aspetti repressivi sui tifosi invece domenica 30 avremo un reportage dove racconta praticamente la Ovest in numeri praticamente i numeri che ha fatto la curva Ovest in trasferta che sono sorprendenti e invece a seguire un dibattito che è David contro Golia e quindi affronteremo l'orgoglio di essere provinciali e di riuscire a galleggiare in questo difficilissimo mare che è la Serie A nonostante noi siamo così piccoli ma così temprati.